Mancano meno di 6 mesi all'arrivo del nuovo iPad Pro e ci sono state rivelate le specifiche in un nuovo report. Oggi andrò a condividere con voi tutti i dettagli a riguardo e un riassunto di quello che ci aspettiamo nel nuovo iPad Pro riguardo le caratteristiche del design, la data di rilascio e il prezzo. In un nuovo report ci viene descritta la potenza e le specifiche del nuovo chip che sarà il cuore dell'iPad Pro 2022. Il report viene da Nikkei Asia e ci dice che TSMC, che sono quelli che attualmente fanno i chip Apple, stanno lavorando a un chip con 3 o 4 nanometri. Questo dovrebbe aumentare le performance del chip M2 dal 10 al 15% in confronto all'M1 standard. Secondo quello che dice Nikkei Asia, ci sarà una riduzione del consumo della batteria dal 25 al 30%, sempre comparando l'M2 e l'M1. L'ultimo iPad Pro è stato rilasciato nell'evento di primavera del 2021, che era il 20 aprile. Tuttavia non potremo mettere fisicamente le mani sull'iPad Pro non prima del prossimo mese, il 21 maggio. Ora, come è accaduto negli anni precedenti, l'iPad Pro del 2020 era stato annunciato il 18 marzo, ma la data di rilascio effettiva è stata il 27 marzo. L'iPad prima di questo era quello del 2018 ed è stato rilasciato il 7 novembre. Tuttavia nel 2019 abbiamo avuto l'iPad mini di quinta generazione e l'iPad Air 3 è stato rilasciato il 28 marzo. Ora ricorda che è presto, ma basandoci sugli ultimi anni e sulle ultime date e anche avendo avuto il peak performance a marzo, noi crediamo che l'iPad Pro con M2 dal 2022 verrà annunciato verso ottobre o novembre, quando il chip M2 uscirà anche sugli altri dispositivi come MacBook Pro, MacBook Air e Mac Mini. Al momento è ancora presto, ma la data di rilascio ci sarà più chiara verso l'estate. Quindi, se volete sapere precisamente quando verrà rilasciato l'iPad Pro con M2, assicuratevi di iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Quindi andiamo avanti facendo un riassunto di quello che ci aspettiamo da iPad Pro 2022. Ci aspettiamo infatti che avrà lo stesso corpo dell'iPad precedente e non crediamo che Apple farà un nuovo design per l'iPad Pro. Per quanto riguarda lo schermo, il nuovo iPad Pro avrà un display Retina MiniLED XDR che avrà la stessa risoluzione dell'attuale iPad da 11 pollici, che sarebbe 2388x1668 pixel e avremo anche il ProMotion a 120Hz. Questa è la prima volta che lo schermo di iPad Pro riceve grandi miglioramenti e non vediamo l'ora che questi leaks diventino realtà. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, questo partirà dai 128GB, poi sarà disponibile con 256GB, 512GB, 1TB e 2TB. Avremo anche il nuovo chip M2 all'interno del nuovo iPad Pro 2022 e questo avrà una CPU con 8 core e anche una GPU a 10 core e questo sarà un grande aggiornamento in confronto all'M1. Ci sarà anche la connettività 5G, poi avremo la possibilità di avere 8 o 16GB di RAM in base a quale spazio di archiviazione sceglierai. Il corpo dell'iPad sarà in alluminio perché praticamente avrà lo stesso design del modello dell'anno scorso. Avrà una doppia fotocamera e un sensore LiDAR, molto simile all'iPad Pro del 2021. La dimensione della batteria dovrebbe essere la stessa dell'iPad precedente e dovrebbe essere di 7538mAh. Riguardo i prezzi, l'iPad con 128GB partirà dai 799$ e quello da 256GB a 899$, quello da 512GB a 1099$, quello da 1TB a 1499$ e 2TB a 1899$. Oltre a questo l'iPad Pro 2022 da 12.9 pollici avrà lo stesso design nello schermo dell'attuale iPad e avrà una risoluzione da 2732x2048 pixel con un refresh rate a 120Hz. Lo spazio di archiviazione partirà dai 128GB e arriverà a fine 2TB. Al suo interno avremo il nuovo chip M.2 con CPU a 8 core e GPU a 10 core. E da come dicono gli ultimi leaks dovremo avere la connettività 5G. La RAM sarà da 8 o 16GB in base allo spazio di archiviazione che sceglierai. Quindi se prendi un iPad da 1 o 2TB avrai 16GB di RAM. Altrimenti se prendi 256GB o 512GB avrai 8GB di RAM. Il nuovo iPad avrà un corpo in alluminio come quello dell'iPad precedente e avrà una doppia fotocamera con sensore LiDAR. In base agli ultimi leaks la batteria dovrebbe rimanere la stessa con 9720mAh. Per i prezzi questi partiranno con l'iPad da 128GB a 1099$, quello da 256GB a 1199$, 512GB a 1399$, 1TB a 1799$, 2TB a 1999$. Quindi questo era un riassunto dell'iPad Pro 2022 e i miei desideri per l'iPad Pro non hanno a che fare con l'aspetto estetico ma per quanto riguarda il sistema operativo. Infatti non vorrei che iPadOS sia una copia di iOS ma che venga ridisegnato più come macOS. Questo è quello che mi piacerebbe vedere sull'iPad Pro con iPadOS 15. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace. Se volete sapere le ultime notizie e leaks al tema Apple assicuratevi di iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Bene ragazzi, alla prossima, ciao ciao!